Salve gente e benvenuti in questo nuovo di Eldering dedicato alla missione di Fia. Troviamo questo personaggio per la prima volta alla tavola della grazia di perduta e interagendo con lei otterremo un oggetto consumabile denominato Benedizione del Bandacchino che vi aumenterà la poise in cambio di una riduzione dei vostri punti vita. Per poter annullare questo effetto semplicemente vi basterà andare nell'inventario e utilizzare il suddetto oggetto. Ogni volta che reinteragirete con Fia otterrete una nuova benedizione del Bandacchino. Con questo stesso personaggio potrete ottenere tutta un'altra serie di dialoghi extra che però hanno a che fare con la missione di Roger e che quindi abbiamo già visto nel video a lui dedicato. Per poter effettivamente andare avanti con la missione di Fia quello che devi fare è attivare o una grazia sull'alto piano di Altus o sconfiggere Radan. Una volta fatto questo potrai parlare nuovamente con lei ti apparirà una nuova opzione di dialogo denominato Parla in segreto e parlandogli appunto ti consegnerà un certo pugnale e ti chiederà di darlo al suo originale proprietario. Puoi a questo punto parlare con D che prenderà con sé il pugnale in quanto lo riconoscerà come proprio. Per poter andare al passaggio successivo della missione ma probabilmente già ce le hai a questo punto comunque è necessario che tu abbia ottenuto almeno due grandi rune e quindi sconfitto in sostanza almeno due semi dèi. Se questo requisito è stato soddisfatto una volta resettata l'aria troverai una nuova stanza della tavola della grazia perduta aperta e al suo interno troverai il cadavere di D con accanto Fia che reclamerà la sua vendetta sul personaggio in questione dopodiché sparirà. Puoi adesso quindi raccogliere l'armatura di D dal suo corpo. Tutto quello che ti ho detto finora è più o meno opzionale nel senso che arriveresti comunque a questo esatto punto anche non interagendo con Fia nel momento in cui attivi la fornace sulle vette dei giganti. Comunque per procedere ancora oltre ti servirà il marchio della morte che puoi ottenere avanzando nella quest di Ranni. Quindi trovi il video dedicato alla sua missione su questo stesso canale ma comunque devi andare avanti fino a che non otterrai da Ranni stessa la Clessidra che ti permette di invertire la sala di studio canariana che si trova qui a Liornia il che ti permetterà di raggiungere la Torre Divina di Liornia in cima alla quale potrai appunto ottenere il marchio della morte. Quello che devi quindi fare per proseguire con la missione di Fia è scendere al fiume di Sofria dirigerti al punto che sto mostrando qui sulla map da cui potrai discendere nella zona denominata Acquedotto il fiume di Sofria attivare la grazia di Lupo sull'Acquedotto e proseguendo oltre incontrerai il personaggio di un ragazzo in palese stato confusionale questi altri non è che il fratello gemello di D e ti sarà data la possibilità, dialogando con lui di consegnargli l'armatura di D lo puoi fare adesso, lo puoi fare dopo il risultato è sempre lo stesso quindi tanto vale che gli consegni adesso subito l'armatura di D andando poco oltre dovrai affrontare una battaglia boss contro due enormi gargoyle una volta sconfitti e attivato il punto di grazia bacino nella grande cascata potrai entrare in una bara che si trova sotto la cascata e eccedere così alla nuova area abisso tra le radici arrivato qui quello che dovrai fare è raggiungere questo punto sulla mappa che ti sto mostrando da qui ti sarà possibile salire su una radice fino a raggiungere ed attivare il punto di grazia oltre le radici poco oltre puoi accedere a una grande area che diventerà ben presto l'arena del tuo combattimento contro i campioni di Fia una volta sconfitti i suddetti campioni e resettata l'aria alla grazia che apparirà apparirà il personaggio di Fia interloquisci quindi con lei e resetta l'aria e interloquisci nuovamente con lei e ripeti più volte questa operazione fino a che lei prima accetterà il tuo marchio della morte e poi cadrà in uno stato di sonno quando si sarà addormentata potrai interagire nuovamente con lei per entrare nel suo sogno e affrontare quindi un nuovo boss sconfitto il boss tornerai nell'aria da cui sei partito qui potrai anche raccogliere sul corpo di Fia la grande runa che ti permette di accedere a un finale alternativo resetta nuovamente per l'ennesima volta l'aria e qui troverai il gemello di D di fronte al cadavere di Fia che ha appena ucciso quello che puoi fare è semplicemente parlare con lui e poi resettare l'aria per farlo sparire oppure ucciderlo in entrambi i casi otterrai nuovamente l'armatura di D e anche una nuova spada tra le due opzioni comunque ti consiglio di lasciarlo andare via non si sa mai magari il suo personaggio potrebbe avere qualcosa di nuovo da dire una volta uscito il DLC resetta nuovamente per l'ennesima volta l'aria per raccogliere la sua armatura ed è in questo modo che si conclude anche questa missione io ti ringrazio per la tua visione se ti interessa ti lascio adesso alla visione del finale alternativo ottenibile sfruttando la runa della morte appena ottenuta da Fia io comunque ti ringrazio per la visione e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.